Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. Oggi siamo su Dungeons of Dread Rock. Questo non sarà un video particolarmente lungo perché il gioco, beh, costa 1,60€ più o meno su Steam scontato, ma a prezzo pieno 3,29€. Partiamo subito dai 3,29€, li vale? Assolutamente sì. Affarone a 1,60€ o qualcosa, insomma. Perché che cos'è? È un dungeon crawler, vecchio stile, che come unico difetto gli input un po' questi simboli da computer mobile e da, scusate, gioco mobile. Quindi praticamente nulla. Il gioco è un ottimo passatempo. In pratica di che cosa parla? Parla di questi due fratelli, il maschio e la femmina. Il maschio entra perché ogni tot anni si può andare all'interno della montagna a sfidare il re morto. Ma lei, soverchiata alla sorella, dato che le donne non possono maneggiare una spada, lei soverchiata dalla curiosità e dall'ansia per il fratello che è andato ad affrontare la sfida, decide di seguirlo e quindi in pratica si ritroverà a un certo punto a vedere il fratello alla fine dei livelli e a cercare di raggiungerlo. Ma questo non so se lo vedremo in questo video perché ve lo voglio far vedere senza spoilerarvelo troppo. Io l'ho giochicchiato un po', la logica è quella del tentativo, praticamente un colpo o un morto, si muore e si ricomincia. E si ricomincia tutto. Quindi bisogna trovare, è un puzzle game, come tanti che magari pubblicizzano sui social, che magari sembrano delle truffe. Questo è vero. È fatto veramente bene. Allora, posso già dirvi che ci sarà interazione ambientale, nel senso che ci saranno magari degli oggetti da prendere, da scagliare, per attivare e sbloccare trappole. Un colpo, un morto, nella quasi totalità delle situazioni. Perché in alcuni casi i mostri saranno troppo forti o necessiteranno di più colpi per essere sconfitti. Questa è la scena che ci mostra, diciamo, il passaggio da un livello all'altro, con il nome del capitolo successivo. Quanti sono i livelli? Sono un centinaio o più di un centinaio. In sintesi qui, cosa bisogna fare? Prendere la chiave che vedete in alto a destra, metterla in basso a sinistra e uscire. Ma, per raggiungerlo, vedete qua c'è una trappola, non c'è modo di andare su perché, anche se scattiamo adesso... Quindi, che cosa si fa? Si va qua sotto, qua parte un'altra trappola e qua vado ad attivare il cancello. A questo punto parte il puzzle inverso, dove dobbiamo essere bravi noi a sopravvivere. Sembra banale, ma magari vi ritroverete alla fine di un livello, dopo aver fatto tutto con il tempismo giusto, sbaglierete l'ultimo passaggio e dovete ricominciare tutto da capo. Allora, questo è semplice, insomma, e si va avanti, clac, 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 capitolo 4. Cioè, questo è il classico gioco bellissimo, dove avete l'opportunità, non per farmi dire per l'ennesima volta, ma a te piace veramente tutto, ma semplicemente per dirvi che, vedete che qui bisogna giocarsela di strategia perché lancia la netela. Non voglio farmi dire che io gioco veramente a tutto e mi piace veramente tutto, però questo è il classico gioco che io identifico come il classico gioco che voi giocate quando avete 10 minuti. Non sapete cosa fare, dovete andare magari a fare qualcosa, avete un impegno e vi mettete lì e giocate e fate un paio di livelli fino ad arrivare alla fine. Sì, fine. Cioè, semplice. Non ci sono veri e propri lutto, ogni tanto prenderete degli oggetti che magari li troverete nascosti e vi aiuteranno, insomma, ad andare avanti. Allora, qui apre praticamente tutto, compresa anche la cella di una eroina che è questa. Vedete, io la prima volta sono stato travolto dal suo raggio di gelo e sono morto e pensavo fosse una nemica. E lei invece mi dice, mi sembri familiare, sembri la sorella del fratello di quella ragazza, sembri la sorella di quel ragazzo che è andato giù poco fa. Ti do un consiglio, scappa il primo che puoi. Vabbè, in sintesi poi ci ringrazia sul finale anche per averla salvata. Abbiamo delle note quando ci avviciniamo a degli oggetti con la voce guida che ci descrive l'ambiente. Un po' come fosse un gioco di ruolo. Comunque intanto noi andiamo avanti. Adesso entriamo a vedere, credo adesso, una simpatica meccanica. Praticamente ci dice, un terribile odore filtra, riempie l'aria e la senti un ruggito dall'altra parte della fontana che blocca la tua vista. Tua madre, cioè le parole di tua madre risuonano come un eco nella tua testa. Scegli saggiamente quando intraprendere un combattimento e quando evitarlo. In sintesi perché? Perché questo tizio qui non gli faremo mai nulla. Quindi la logica vuole che lo raggeriamo. Ma non è finita qui. Lui ci segue. Ovviamente se capisce che ci allontaniamo troppo, capisce il gioco che vogliamo fare, torna indietro al grido di oh no. In questo caso, vedete. No no. E io butto giù la porta e me ne vado. A questo punto sarebbe facile pensare che il livello sia finito così. Sì, in realtà no, perché c'è anche lui. E quindi il livello successivo siamo costretti a correre in fretta perché sta arrivando. Eccolo lì. Forse probabilmente l'ho cinciscato un po' troppo all'inizio, però forse ce la faccio. In una vana speranza potremmo anche pensare di magari liberare quei tizi per rallentarlo un po'. Ma sì, l'abbiamo rallentato, però... Non lo elimineremo. Fetti sonori belli per quanto semplici. E l'avventura continua sempre con lui indietro. Trap door. Ma qua c'è la svolta. Lui arriva. Vediamo che questo tizio pensa di fregarci. Noi lo saniamo di botte. Chiudiamo la botola. E tendiamo che il nostro amico ci trovi. Weii, sono qui. Sì, sì, carne. Perfetto. E con quest'altra leva apriamo la porta e ce ne andiamo. Il gioco non manca alcuni particolari come... Cos'è questo? E qua dice... Vedi lava attraverso la parete. Che dungeon è se non c'è la lava? Stessa cosa qui. Qua abbiamo un falò. Dove noi andiamo a dormire. E quindi ci addormentiamo. Poi non lo so se questo gioco esista per mobile. Vedete la cosa che... Vabbè qua adesso non vi spoilerò la storia. Ma in pratica dicono... Non vantico la storia. Dicono... Chi è la ragazza? Doveva aspettare qui. No, invece... Avevo detto che era disobbediente. Rovina il sacrificio. Pensi che lei lo sappia. Dovrebbe, non può... E così viene sempre più misteriosa la vicenda qui. Ok. Graficamente è grazioso. Quindi... No, la cosa che non mi piace... Ma è una finezza. Proprio una cosa che avrei evitato io. Sono quelle... Quelle due icone laterali. Quella in alto a destra... A sinistra... E in basso a sinistra... Del menu. Che apre il menu. E della riprova. Che ho cliccato adesso e ci ha fatto ripartire il livello. Tutto lì. Niente di che. Va bene, dai. Qua va avanti. Adesso non voglio continuare chissà quanto. Nel senso che... It's a trap. Il gioco è davvero carino. E qua entriamo con un'altra meccanica. In sintesi il messaggio si dice potresti anche non uccidere nessuno. E infatti questo è un puzzle che si risolve praticamente da solo. Perché si uccidono tutti a vicenda calpestando ripetutamente la trappola. E qua si va avanti. Mentre un'altra meccanica interessante sempre utilizzando quello del teletrasporto. E' quella che andiamo a vedere adesso. Infatti voi vedete che qui abbiamo... Per farvi capire la profondità che potrà avere. Noi non ce la facciamo. Quindi cosa dobbiamo fare? Dobbiamo... Guardando attentamente l'ambiente vediamo che questa pietra è diversa. E infatti la possiamo prendere. La possiamo anche scagliare. Ma non è finita qui. Perché se noi la scagliamo qui rimane lì. Ma... Cosa succede? Moriamo. Quindi entriamo in questo portale e finiamo qua. Entriamo in questo e finiamo lì. Quindi... Cosa dobbiamo fare? Beh io ammetto che qua ci ho perso forse due o tre minuti insomma. Perché ho dovuto pensarci un po'. Ma alla fine... Questa è geniale. Eccezionale. Vabbè qua è tutta l'or. Tutta l'or. Quella che ci dà... Che ci danno questi pannelli di descrizione. Don't waste them. Non perderli. In sintesi vedete il fratello che sta andando avanti. E noi qua che... Che stanno aprendo la porta. Questi tizi qui io ho scoperto che dobbiamo ucciderli. Perché se decidiamo di farli passare su quelle trappole non ne riusciamo a finire il livello. Perché in pratica c'è il nostro amico troll che... Orc, non so adesso... Che ci segue. Ma se non lo facciamo passare sulle due trappole... Non muore. Perfetto. Quindi adesso bisogna tirare la leva e recarci... Piuttosto velocemente perché è temporizzata... Alla porta sotto. Perfetto. La porta l'aveva già aperta lui. Time and space. Of time and space. Ok. Questo è davvero interessante. Questo è l'ultimo livello che vi mostrerò. Perché vedete che adesso se io vado qui... Lui si teletrasporta sopra di me. Quindi la logica vuole che io mi inventi un altro metodo. Quindi li spawno sopra e torno qui. Ma! Lui non è stupido. In pratica mi faccio seguire. Vado dall'altra parte. E scopriamo un'altra meccanica interessante del gioco. Che è quella che... Se noi ci spawniamo sopra lo uccidiamo. In questo caso vedete così finisce. E recuperiamo che la chiave. Anche se non abbiamo visto la chiave che abbiamo preso da lui. La vediamo in alto a destra. La utilizziamo e andiamo avanti con questo. Però mi sa tanto di trappola. Infatti vedete io adesso sono morto e devo rifare tutto. Sono un perla. Non abbastanza. Qua bisogna fare attenzione perché una volta entrati qui lui ci attacca subito. Bisogna essere pronti. Ok. Seguimi seguimi. Se ci sallontaniamo troppo lui capisce l'inghippo e ci abbandona e torna indietro in difesa della sua... Ok. No no. Vai. Perfetto. Ho preso quello che dobbiamo prendere. Sono stati abbastanza veloci quindi andiamo avanti. E viene finito anche il livello 13 in Fools Game. E qua inizia un altro livello dove dobbiamo andare a prendere il tizio. Quindi questo va preso. Ma mi interrompo qui perché sono curioso di sapere il vostro parere in merito a questo gioco che... Non è banale. È un bel passatempo. A volte si portano dei survival sciatti piatti con poca iniziativa o con troppi bug o troppi in early access. Questo mi sembra un gioco bello fatto e finito. Costa veramente pochissimo. Quindi magari potete acquistarlo come avanzo magari del credito Steam che vi rimane dopo un grande acquisto. o se avete dei soldi guadagnati vendendo le carte Steam insomma. Quindi fatemi sapere che cosa ne pensate e alla prossima ragazzi. Ciao ciao.